Alle 17 oggi pomeriggio la celebrazione della Passione e stasera dalle 21 e 30 il rito della via Crucis nel cuore di Roma. Papa Francesco prosegue nel venerdì santo ad ufficiare i riti della prima Pasqua del suo pontificato, una celebrazione che ha già visto in più momenti la profondissima carica innovativa del messaggio del Pontefice. Già ieri mattina nella benedizione del crisma rivolto ai 1600 religiosi presenti a San Pietro aveva esortato la chiesa ad uscire da se stessa per andare verso le periferie dell'esistenza e a dare l'esempio per primo è stato proprio Papa Bergoglio scegliendo di ufficiare il rito del giovedì santo per la prima volta non a San Pietro o a San Giovanni in Laterano ma nel carcere minorile romano di Casal del Marmo. Un gesto che segna la storia in più modi perché Francesco ha voluto eseguire la cerimonia della lavanda dei piedi a 12 giovani detenuti tra loro anche due ragazze unita.